Il Cagliari stabilisce le gerarchie all'interno della griglia del playoff ma non dispera dal poter agganciare il Sud Tirol dopo una partita, quella vinta contro il Palermo, che ha visto in concomitanza pareggiare il Sud Tirol in casa contro il Cittadella. Rinviate quindi da questo punto di vista le decisioni relative a chi salterà il primo turno preliminare nella griglia playoff perché se il Cagliari dovesse vincere a Cosenza e non dovesse fare altrettanto il Sud Tirol sul campo del Modena ancora in corsa per i playoff, insomma il Cagliari si ritroverebbe nella condizione di saltare il primo turno. La certezza di oggi è invece il fatto che se il primo turno lo deve disputare lo disputerà certamente tra le muramiche perché la sconfitta del Palermo ma anche le concomitati sconfitte di altre squadre che si seguivano hanno posto queste squadre a distanza del Cagliari stesso e del Parma a una distanza superiore ai tre punti. La partita di oggi è stata una partita da playoff con due squadre che hanno fatto calcio, con due squadre che hanno tentato di attaccare e con due squadre che il gol hanno fatto. Il Cagliari dobbiamo dire lo ha subito nel primo tempo quando sembrava di poter controllare la partita e poi è stato capace però di replicare, di continuare, di ottenere prima il pari e poi nel secondo tempo addirittura il gol del successo. L'ha fatto con le sue armi e in particolare quella che oggi si è messa in evidenza è quella di Gianluca Lapadula. Non c'era Bruno Voli dall'altra parte, il suo concorrente per la classifica Marcatori e Lapadula ne ha approfittato per infilare la difesa del Palermo, rimasta in dieci con l'assituzione però già fatta, e di infilarla con un'azione da attaccante vero, da attaccante pura, lottando, spostando la palla, driblando e andando a concludere con una rasoiata in diagonale che si è spenta sull'altro palle. Non il gol di rimpallo tendenzialmente amato dalla Lapadula dove va a fare la guerra per tentare di trovare comunque l'impatto con la palla indipendentemente dalla tecnica, indipendentemente dallo stile. Stavolta un gol di buona fattura. Per un Cagliari che ha saputo cambiare pelle più volte, anche questo è un aspetto importante per il playoff, ha iniziato con una difesa a tre con De Iola centrale, e poi si è accorto che comunque a centrocampo forse doveva fare qualcosa di meglio, e allora Ranieri ha spostato De Iola a centrocampo riportando una difesa a quattro che potesse dare garanzie. E con lo spostamento di De Iola a centrocampo è arrivato immediatamente il pareggio, proprio firmato a De Iola, in una delle sue incursioni, in una delle sue caratteristiche principali in zona d'attacco. Il Cagliari che poi ha cambiato anche i calciatori in corso di partita, perché ha sostituito tutti quelli che erano ammoniti, per evitare di perdere quel vantaggio numerico che ha conquistato quando è stato espulso Marconi. Bene Pavoletti che ha agito con grande sintonia con la Padula, tutta un'altra cosa rispetto a quello che si vedeva all'inizio del campionato, quando i due quasi litigavano quando stavano insieme in campo. E stavolta non solamente Pavoletti che si è messo a disposizione della squadra, ma anche capace di scambi veloci e di intese, che avrò potuto portare al gol anche con grande stile, con grande emozione, con grande tecnica. Quella che è cresciuta in tutto il settore offensivo del Cagliari, dove si è visto un grandissimo Nandez nel corso della parte più difficile e forse un Mancosu quest'oggi ingabbiato dagli avversari che cominciano a studiare il Cagliari con attenzione, tanto da neutralizzare le fonti di gioco. Insomma, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico, è stata una prova generale di play-off. Quel play-off che il Cagliari insegue vorrebbe giocarsi in due partite, o meglio in tre partite e non in quattro, ma che rimane l'obiettivo e rimane un obiettivo sempre più concreto, perché dopo ogni gara la squadra Cagliari è capace di dimostrare che potrebbe essere all'altezza della situazione e probabilmente una delle più grandi favorite. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno oltre al web ci potrai vedere anche in tv. In cinque anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 1693.